Se non è un record mondiale poco ci manca. Per il ventesimo e ventunesimo anno l'accordo ufficiale è fatto. Vannucci-Piante e US Pistuesa 1921, una unione inossidabile. Lo sponsor ufficiale dei colori arancioni sarà sempre l'azienda guidata da Vannino Vannucci. Con il campionato appena concluso era terminato il diciottesimo anno di sponsorizzazione ed ancora rimaneva un anno dal vecchio contratto, cui come detto se ne sono aggiunti altri due. Reciproca soddisfazione per Vannucci che diventa così lo sponsor più longevo nel calcio, superando i diciotto anni della sponsorizzazione della Carlsberg con il Liverpool e per il presidente Ferrari che potrà contare su di un'importante entrata per le casse societarie. L'obiettivo è quello di rivedere presto i colori arancioni nei tornai professionistici. Vannino è stato ripetuto più volte, d'altra parte sotto gli occhi di tutti, come il momento generale economico europeo e mondiale sia difficile. Quello del calcio in particolare lo è altrettanto, però qui si sta compiando un piccolo miracolo. Ho sentito pochi giorni fa il presidente dell'Empoli, che è stato in Serie A e in Serie B negli ultimi anni, quasi consecutivamente, anzi dal 2000 consecutivamente, dice voglio vendere la squadra ma non ci sono più i rientri. Ieri ha parlato Gagliani, cioè l'amministratore delegato della squadra più importante nel mondo dal punto di vista dei trofei conquistati, assieme al Boca Juniors, dice qui non arriveranno più campioni. Dico ma qui a Pistoli si sta compiando davvero un miracolo perché l'Avannucci Piante sarà sponsor ufficiale della squadra che è in Serie D, ricordiamolo ancora, fra i direttanti per il ventesimo e il ventunesimo anno consecutivo. Quindi insomma è un miracolo. Non so se è un miracolo ma è sicuramente un record quasi mondiale, come te mi ricordi spesso, ce ne sono poche altre in tutto il mondo di aziende o imprese che sponsorizzano da vent'anni una società. Questa è una scelta ovviamente prima di cuore, poi ovviamente anche perché è chiaro che un'azienda come questa, importante tra virgolette per il nostro settore, su questo territorio deve, credo che è un suo compito anche quello di sostenere lo sport e noi lo facciamo con la Pistoese, lo facciamo con tanti altri sport, ovviamente in misura minore, la Pistoese io ce l'ho nel cuore, il calcio in particolar modo, per cui mi auguro che questo entusiasmo, lasciatemelo dire, che io metto in questa, come in tutte le cose che faccio, ma nel calcio in particolar modo e in questo caso nello sponsorizzazione, mi auguro che sia coinvolgente e che anche la società arancione, il presidente Ferrari facciano il loro, fra virgolette, dovere allestendo una squadra giusta all'altezza. Ecco, quindi hai parlato di coinvolgimento, questo mi fa venire in mente un'altra cosa che mi era annotato, andiamo un po' a vederla. Ecco, vedo qua che per esempio Pistoia nel basket è seconda addirittura nella sua lega in Italia, cioè con una presenza allo stadio di 2856 persone e questo bisogna riportare anche nel calcio. Sì, ma questo ho tanto di cappello alla società Pistoia Basket perché sicuramente negli anni si sono date veramente una bella organizzazione a livello proprio societario, ci sono delle persone importanti di Pistoia alla guida e hanno coinvolto sicuramente tante persone e hanno sicuramente dato, hanno avuto anche fortuna ad arrivare a certi risultati, ma la fortuna ovviamente non arriva da sola, arriva se aiutata anche dalla professionalità. Sicuramente c'è professionalità, però è chiaro come ho detto in conferenza stampa, il basket non può neanche confrontarsi con il calcio, nel senso che il calcio è tutto di un'altra importanza a livello mondiale, a livello, si è visto con gli ultimi dicevo europei, quanto entusiasmo c'è intorno al pallone e al calcio in particolar modo. Anche a Pistoia sono sicurissimo che tante di queste persone che magari ogni settimana si, fra virgolette, si disperdono, scusatemi il termine, in altri sport probabilmente vorrebbero andare a vedere una bella partita allo stadio. Ci mancano forse anche un po' le strutture, questo è un po' un appunto che bisogna fare anche alle nostre autorità locali, ma questo capisco, i momenti sono complicati. Però sicuramente la squadra è quella che poi trascina i tifosi. Io sono convinto che quest'anno se verrà fatto quello che si deve fare anche a livello di allestimento di squadra, la gente ritornerà a vedere la Pistoiese. Quindi Ganducci non solo è fedele, ma stamani si è levato anche qualche sassolino delle scarpe e ha parlato chiaro. No, 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 non sono sassolino delle scarpe. Io ovviamente faccio il mio lavoro, faccio l'imprenditore, faccio il vivaista. Però è chiaro che uno quando sponsorizza in maniera forte, importante, da vent'anni, una società, poi è chiaro, gli piacerebbe essere anche a certi livelli. Quindi, credo, permettetemelo con molta modestia, ma permettetelo, questa azienda merita, merita certamente categorie più importanti. È ovvio, insomma, poi il pallone che va a buttarlo nella rete, però, insomma, auguriamoci di festeggiare a giugno qualcosa di importante. Grazie.